Per i comuni del Molise nuove opportunità, neanche a dirlo grazie al PNRR, per intercettare risorse da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture pubbliche, ma non solo strade, di cui il Molise ha peraltro grande bisogno, bensì anche una serie di servizi sociali di comunità, in grado di migliorare la vivibilità dei territori e al contempo di creare opportunità lavorative per i giovani. Se ne è discusso nel pomeriggio di ieri a Isernia, presso la sala consigliare della provincia, con il presidente Ricci a fare gli onori di casa, Domenico Gambacorta, consigliere per la strategia nazionale area interne, SNAI, del ministro per il Sud, Mara Carfagna, ha illustrato le opportunità offerte da un apposito avviso pubblico da 500 milioni di euro. Oggi siamo qui anche per presentare il bando, l'avviso da 500 milioni per le infrastrutture sociali e per i servizi sociali di comunità, a cui ovviamente possono partecipare tutti i comuni della provincia di Isernia, che sono tutti considerati ultraperiferici, periferici o intermedi. E questa credo che sia un'occasione importante, un'occasione da non perdere, perché consentirà soprattutto agli enti locali di intervenire sulle infrastrutture sportive, sulle infrastrutture culturali, musei, biblioteche, per il restauro di beni culturali, con fondi che sono totalmente a carico del Ministero del Sud e della coesione. L'avviso, come detto, è indirizzato ai comuni, ma anche la regione sta lavorando allo scopo di finanziare l'ammodernamento del Molise, ha rimarcato il governatore Toma. È chiaro che ciò che i comuni faranno si aggiunge a ciò che la regione sta facendo. Noi stiamo per finanziare 38 più 38, quindi circa più o meno 80 milioni di euro, poco meno di 80 milioni di euro. Questo significa che davvero partirà una stagione di lavori, una stagione di ristrutturazioni, una stagione di riammodernamento delle nostre infrastrutture stradali. Una funzione di stimolo per gli amministratori locali, così l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello, in merito al contributo dall'alto profilo tecnico offerto dal consigliere del ministro. Ma in tutto bisogna cogliere in positivo questo incontro, perché è la prima volta che un ministro della Repubblica, ossia la ministra Carfagna, attraverso i suoi collaboratori, sta facendo un'opera di sensibilizzazione sul territorio dell'Italia meridionale, per far crescere la consapevolezza delle disponibilità delle risorse del PNRR, cercando di stimolare gli amministratori a fare presto, a fare veloce e a candidarsi con progetti credibili e cantierabili. Un'attività di stimolo nei piccoli comuni, nelle piccole realtà, e nel nostro Molise credo abbiamo bisogno di questo stimolo, perché dobbiamo recuperare quella difficoltà che abbiamo registrato in questi anni per fare di più e fare meglio. Grazie. Grazie.